Dopo il successo dello scorso anno con la manifestazione Svicolando, quest'anno si bissa? Il nostro augurio è quello, anzi il nostro augurio è quello di migliorare il grande successo dell'anno scorso in cui forse nemmeno noi ci aspettavamo tutto questo successo di pubblico e quindi speriamo di bissare, dai! Programma ricco di eventi e ci si augura una massiccia partecipazione? Sì, il nostro augurio è quello, abbiamo un programma molto molto ricco, nei piccoletti del nostro centro storico si esibiranno diversi gruppi itineranti, ci saranno degli artisti di strada che allieteranno le persone che degusteranno i piatti tipici del nostro territorio, poi ci sarà un palco principale dove l'1 e il 2 settembre si esibiranno il 1 settembre, ci saranno i Lennon Kelly, mentre il 2 settembre ci saranno due gruppi principali che sono i Merken, che sono un gruppo cileno che vengono dal Cile per farci conoscere un po' la loro musica sudamericana e poi ci sarà Daniele Sepe che sarà il momento clou della serata con Capitan Capitone e Fratelli della Costa che sarà il clou del nostro evento. Un percorso dunque storico ed enogastronomico nei vicoli di Frigello. Sì, certo, anche perché nei nostri piccoletti ci saranno delle mostre d'arte, ci saranno artigiani e tanto altro da scoprire. Non voglio svelare tutti i segreti perché altrimenti poi non verrete più alla festa.